Bella raga da Ghiottone 99, signori, occhio, grandi aggiornamenti di mercato in casa Lazio ma prima vi invito a passare nel canale che vi lascio qui in alto a destra nelle schede il canale di The Fusion, mi raccomando iscrivetevi, lo trovate anche nel primo link qui sotto in descrizione qui sotto c'è anche il mio Instagram in cui ho fatto una storia proprio stamattina o comunque poco fa su Ciro Immobile, perché prima di parlare di calciomercato voglio parlare di Ciro Immobile c'è speranza per l'Inter perché l'infortunio lo dovrebbe smaltire in 15-20 giorni però Ciro ci ha abituato a un tempo di recupero record quindi io con l'Inter secondo me sono quasi sicuro che andrà in panchina titolare o comunque che scenda in campo la vedo difficile poi dipende come andrà la partita perché se vinciamo 3-0 sicuramente non lo rischia per dire o se siamo 0-0 magari lo mette comunque piccola parentesi sull'infortunio di Ciro Immobile, incrociamo tutti le dita poi calciomercato, allora il Manchester United vuole un centrocampista e chi vuole ragazzi? Milinkovic Savic lo sappiamo sarà il pezzo pregiato del mercato estivo a livello proprio anche europeo non solo del mercato italiano perché Pogba sembra che lasci Manchester e tifosi juventini io sarei contento perché Pogba potrebbe tornare alla Juve, farebbe comodo però se Pogba torna alla Juve, la Juve non andrà a prendere Milinkovic Savic che è un obiettivo dichiarato della dirigenza juventina quindi il Manchester United vendendo Milinkovic Savic aveva virato su Cross che però è un giocatore diverso da Milinkovic Savic Cross sembra che abbia rifiutato, comunque il Real non è accondiscendente diciamo allora ha virato su Milinkovic Savic e si parla di una cifra di 100 milioni di euro o anche di più perché il Manchester United è disposto a spendere 200 milioni per prendere Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid e Milinkovic Savic quindi magari Griezmann lo paga tanto e Milinkovic 120, spero io magari 100 e 100 o va bene comunque sono sicuro che la dirigenza laziale se farà partire Milinkovic Savic sarà almeno per 80, 90, anche 100 milioni di euro perché ricordiamoci che parliamo di un ragazzo del 95 secondo me non li vale però non li vale in un mercato di 5-6 anni fa in un mercato di adesso li vale perché se tu mi vai a pagare Higuain a quasi 30 anni quando l'ha preso, adesso ce l'ha già più di 30 anni a 29 anni me lo vai a pagare a 94 milioni o un Pogba che secondo me è più scarso di Milinkovic Savic me lo vai a pagare 100 milioni allora ti dico che Milinkovic Savic li vale 100 milioni perché poi ripeto è un ragazzo del 95 comunque va bene e io vi dico non preoccupatevi ai tifosi laziali perché secondo me se Milinkovic andrà via scusate non lo so perché se la Lazio va in Champions lui vorrà giocare alla Champions con la Lazio ma se andrà via sicuramente con 100 milioni ragazzi ci facciamo uno squadrone e gli obiettivi sono Brian Ruiz del Betis Siviglia come sostituto di Milinkovic un ragazzo del 96 che però c'è una grande concorrenza o Brian Cristante che andrà via dall'Atalanta al 100% e quindi è un obiettivo della Lazio ragazzi Brian Cristante è un ottimo giocatore può ricoprire un po' il ruolo di Milinkovic con caratteristiche diverse, meno fisico però ha un gran colpo di testa forse segna anche di più di Milinkovic Savic ha un buon tiro, è un giocatore completo che il Milan si è fatto sfuggire e io lo vorrei assolutamente alla Lazio a prescindere dalla vendita di Milinkovic quindi a prescindere da quello dato che quest'estate è stato stanziato un budget da circa 50-60 milioni di euro per il mercato della Lazio cosa mai vista io Brian Cristante lo vorrei a prescindere anche perché a centrocampo abbiamo bisogno di alternative di un vice parolo sicuramente e c'è Murgia ma l'ho ridetto non è secondo me nella altezza se tornasse Cataldi io sarei anche contento come sempre Risero ci sta italiano e della Lazio è un Laziale a ottime qualità poi in difesa in difesa si è fatto il nome di Camille Glick che però pare più vicino al Torino pare più vicino al Torino e un ritorno appunto di fiamma come Pogba un ritorno alla base possiamo chiamarlo così e io vi dico la verità non mi entusiasma Camille Glick secondo me è il più bravo ripeto il più avvenuto in difesa e questo ho detto tutto diciamo sul giocatore non è un giocatore che ci farebbe fare salto in qualità secondo me è un giocatore che andrebbe un uomo in più lo vedo non lo vedo così tanto più forte di Wallace non lo vedo così tanto più forte di Casares assolutamente no lo vedo sicuramente più scarso di De Vrij che anche lì adesso si parla forse che rimane se l'altro va in Champions l'Inter no magari rimane non lo so non lo so io ripeto a me conta la maglia se devrai resto come giocatore sono contento se se ne va a pace nel senso lo sostituiremo e boh niente signori vi invito a seguirmi su Instagram non so se l'ho già detto vabbè ok e niente poi vi invito sempre a dirmi se vi piace come dire come parlo come se sbaglio i tempi dei verbi sbaglio a parlare italiano vi piace la mia parlantina il tono della voce e se riesco a intrattenervi bene perché ci tengo molto ci tengo a riuscire a parlare bene e con un italiano corretto un tono piacevole un discorso appunto che non vi a noi signori bella qua è tutto ciao ragazzi ciao